ciao a tutti oggi prepareremo il pangrattato aromatizzato al pistacchio il tempo di preparazione della ricetta è di tre minuti circa ingredienti sono pane raffermo parmigiano pistacchi sale pepe prezzemolo e basilico diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il prezzemolo e il basilico ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere i pistacchi il pane raffermo il pepe ed il sale ed azionare il bimbi per 30 secondi da velocità 4 a velocità 7 il pangrattato è pronto per essere utilizzato pangrattato aromatizzato al pistacchio ideale per panature di carni verdure e pesce grazie e alla prossima ricetta ciao ciao ciao